Era stato condannato per la morte di Martina Rossi, la studentessa precipitata nell'agosto 2011 dal sesto piano dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca. Adesso la difesa di Alessandro Albertoni ha presentato ricorso in appello. Il giovane di Castiglion-Fibocchi, assieme all'amico Luca Vanneschi, era stato condannato lo scorso 14 dicembre in primo grado dal Tribunale di Arezzo a sei anni di reclusione, tre per la tentata violenza sessuale ed altri tre per la morte in conseguenza di altro reato. Secondo l'accusa, sostenuta dal procuratore capo Roberto Rossi, la giovane infatti volò giù dal balcone mentre cercava di sfuggire ad un tentativo di stupro. Il legale di Albertoni, l'avvocato Tiberio Baroni adesso ha depositato i motivi dell'appello contenuti in circa 350 pagine, nelle quali analizza e contesta punto per punto la sentenza. Il ricorso punta anche sul principio del nebissinidem internazionale, ossia sul fatto che gli inquirenti spagnoli avevano già archiviato il caso come suicidio. Il legale del giovane ricostruisce inoltre la vicenda in modo diametralmente opposto da quanto fatto dall'accusa, parlando di una caduta accidentale di Martina Rossi. Adesso anche l'altro giovane coinvolto nella vicenda, Luca Vanneschi, potrebbe presentare ricorso.